I tecnici dell'ARPAT hanno prelevato campioni nella zona dell'incendio confermando che la situazione sta tornando alla seminormalità. Dunque le finestre possono tornare ad essere aperte. Sull'incendio è intervenuto il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Il rischio di inquinamento atmosferico si è diluito ed è pressoché terminato, ma resta quello delle acque. Questa notte sono state costruite due dighe di contenimento, la prima per spezzare il flusso delle acque di scolo della Fogna, che poi va verso il canale della Chiana e che sicuramente contenevano cianuro. La raccomandazione più importante, ha concluso il sindaco, resta quella del non uso delle acque della Chiana, perché nell'immediatezza dell'incendio il flusso si è inizialmente disperso nel canale attraverso il sistema fognario e tra le sostanze c'era, come detto, sicuramente cianuro. Dalle prime ore di questa mattina sono al lavoro ditte specializzate proprio per sanare anche la situazione delle acque.